qui con jean patria appena finita la partita una sconfitta ancora zero punti dopo due partite in casa cosa è mancato oggi dopo il secondo set sembravate in grado di combattere per questa gara poi invece qualcosa è nato storto ha mancato tante cose abbiamo vissuto qualche tempi buono e qualche altri molto molto meno buone non so che cosa dire è vero che fa due partite non prendiamo punti sarà difficile però ci crediamo e dobbiamo tornare a lavorare sarà difficile perché anche andiamo subito giocare a verona poi domenica anche a a taronto sarà difficile siamo stanchi però dobbiamo combattere trovare l'energia per per combattere stare lì ci sono appunto le prossime due partite in trasferta sicuramente sarà difficile ma è un anche un fatto fisico arrivare lunghi post season c'è un po di stanchezza e la stagione lunghissima e si è vero che infatti alla fine della stagione siamo siamo tutti stanchi però è così per per tutti e dobbiamo fare con con questo e allora non c'è soluzioni dobbiamo continuare ma ci crediamo perché c'è ancora ancora tre partite possiamo fare i punti assolutamente c'è ancora tutto lo spazio per arrivare nelle prime quattro e quindi buona fortuna jean patrie per il proseguimento della stagione di milano grazie grazie grazie